In cassa la sconfitta alla Roma in questa partita che c'è stata ieri, il 19 gennaio 2021, di Coppa Italia tra Roma e Spezia. Roma incassa una sconfitta in casa sua, infatti la partita era Roma-Spezia e non Spezia-Roma. Due reti sole fa la Roma, quattro ne fa lo Spezia. A firmare le due reti è stato Lorenzo Pellegrini al 43 minuto di gioco del primo tempo, su rigore, e Unitarian al 73 minuto di gioco del secondo tempo. Ben due gli espulsi Gianluca Mancini e Paolo Lopez, il primo al 91 minuto, il secondo al 92 minuto. Per quanto riguarda invece la squadra Spezia, a segnare i quattro gol, sono stati Galabinov al sesto minuto di gioco, su rigore, due a firma di Riccardo Saporara al 15esimo minuto e al 119esimo minuto e, ad ultimo, ma non per questo di minore importanza, l'ultimo gol di Daniele Verde al 107esimo minuto di gioco. E' stata una partita deludente per la Roma, una Roma spenta, non ha colto nel segno, sicuramente ha fatto due gol, su questo non c'è che dire, non c'è dubbio che è stata molto brava in questo, però poteva puntare alto, ma non ce l'ha fatta. La sconfitta è arrivata e, soprattutto, la fine di un sogno. La Coppa Italia termina qua, insomma, ecco. Lo Spezia propone un gioco piacevole, divertente, reattivo, tanti i momenti utili per lo Spezia, che va in segno attraverso questi angelicati, quattro gol. Lo salutone che era a voi, italiano, un narratore italiano, iscrivetevi al canale, complimenti allo Spezia, ciao!